Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vessillo di vanità, ma semplice vestigio della vox populi ora vuota, ora vana. Tuttavia questa visita ha la vessazione passata a questa vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio garanti della violazione vessatrice vorace della volontà. L'unico verdetto è vendicarsi, vendetta, e diventa un voto non mai vano, poiché il suo valore e la sua veridicità vendicheranno un giorno coloro che sono vigili e virtuosi. In verità questa vicissuas verbale vira verso il verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V.